Dopo mesi di guerra intrincea lungo l'asse Olanda-Belgio-Francia, l'entrata in guerra dell'Italia rompe gli equilibri del conflitto. Sfruttando l'indecisione della Francia su come difendere il confine, le truppe fasciste penetrano dalla costa azzurra, facendo crollare il morale dell'esercito francese. Eccoci qua, dopo che è crashato il gioco, sembra che abbia tenuto tutto, non so perché è esploso, adesso sta esplodendo ancora, sta esplodendo ancora, esplode. Verfinance Tower è stata, penso, una delle partite di Arth of Iron 4 che mi sono piaciute di meno all'interno di quelle che ho eseguito, sia in single player sia di quelle mostrate con il canale. L'ho fatta con la Black Ice Mod, una modifica che durante Arth of Iron 3 pare fosse storica, sia perché aumentava la complessità, sia perché aumentava gli eventi di disposizione e dava numerose opzioni differenti di meccaniche di gioco. Ecco questo adesso pare proporsi anche per Arth of Iron 4. Ovviamente essendo una mod che è nata da pochi mesi, è ovvio che non è assolutamente matura, quindi mancano molti eventi, le meccaniche non funzionano completamente, le cose vengono cambiate di patch in patch, come è giusto che sia. Ma si può vedere fin da subito come la mod vuole modificare il gioco, perché quello è al core, è al centro delle modifiche iniziali che sono state consegnate con i primi pacchetti. Arth of Iron 4 è un gioco che è stato semplificato rispetto ai titoli passati, infatti basti pensare che la linea di produzione è stata ridotta all'osso, giusto per migliorare l'esperienza in quanto è un gioco strategico, non hai bisogno di sapere ogni minimo particolare delle tue divisioni, perché tu sei come un capo di stato, un membro di un governo comunque, non sei un generale, non devi gestire le logistiche specifiche di ogni divisione, quindi hanno tentato di semplificare anche questo aspetto e ce l'hanno fatta. È una cosa positiva, negativa, questo dopo dipende dai gusti dei giocatori. Secondo me è stato un miglioramento, perché si perdeva troppo tempo a gestire gli aspetti di rifornimenti, produzione, che non servivano a niente, rallentavano semplicemente il gioco che è interamente incentrato sullo sviluppo di un conflitto con una linea di produzione dietro che deve sostenere lo sforzo bellico, ma che non deve prendere la maggior parte del tempo del giocatore. Detto questo, la Black Ice ti stravolge tutto, ti fa riportare Hearts of Iron 4 ai titoli del passato. È vero, ha delle cose molto positive, del tipo che le tecnologie sono state notevolmente espanse, ci sono molte nuove scoperte da dover fare, molti nuovi veicoli da poter sviluppare, infatti ci sono delle nuove tab di tecnologie specifiche per ogni nazione, almeno per quelle principali in questo momento, che comprende anche miglioramenti per le navi, cioè potremmo migliorare per esempio il sonar, le antiaeree, armamenti, radar, eccetera, eccetera, e questo è solo destinato ad ampliarsi. Una cosa molto interessante che ho scoperto nel giocare era la presenza all'interno del tab delle fabbriche, la possibilità di sviluppare fabbriche specifiche, di armamenti, munizioni, carri armati, aerei leggeri, aerei pesanti, insomma fabbriche che al posto di essere generiche erano concentrate e focalizzate solo su un tipo di produzione e questo generava, dopo un totale di numeri di fabbriche specifiche sviluppati ti davano dei bonus per diminuire i costi di produzione di quel determinato prodotto. Una cosa molto positiva, è in linea con quello che è alla fine accaduto durante la seconda guerra mondiale, invece di avere una fabbrica generica, se hanno delle fabbriche specifiche che permettono di sviluppare in maniera rapida un certo tipo di armamento. Ma qui finiscono le cose belle, incentrate e portate dentro dalla black ice, perché da qui in poi c'è solamente un peggioramento di tutta la meccanica di gioco. Innanzitutto, le divisioni, sebbene siano state ampliate come concetto, sono state peggiorate. Abbiamo divisioni di fanteria normale, divisioni di fanteria leggera, abbiamo un misto che non si capisce bene del perché è stato generato, abbiamo divisioni di carri che sono piazzate e nel 36-38 non vengono mai aggiornate, quindi rimangono sempre fisse e obbligano il giocatore a dover metterci mano direttamente, quando dal 36 al 39-40 è stato abituato che le divisioni venivano aggiornate direttamente, ma questo è un problema minore. Il problema grosso è la suddivisione eccessiva delle linee di produzione. Se lo streamline che avevano eseguito i programmatori iniziali della Paradox funzionava, per quanto semplicistico possa essere, perché alla fine quando loro ti davano un carro nuovo era sempre un medium tank, quindi che fosse un M3i o fosse un M4 Sherman o un Panzer III o un Panzer IV, era sempre un medium tank e cambiava solamente l'immaginina in base all'anno di sviluppo della tecnologia. E questo non era bello, però era funzionale. Alla fine dopo tu avevi comunque il tab di modifica e tu potevi assegnargli i tuoi nomi che volevi a quel determinato carro, lo producevi con determinate caratteristiche di spese di punti esperienza e la cosa funzionava. Qui invece hanno voluto suddividere la produzione creando proprio linee di produzione e tecnologie specifiche per ogni tipo di divisione. Avremo motociclette, veicoli di trasporto degli ufficiali, camionette, carri armati, sistemi d'arma che sono specifici per le fanterie di divisione o per le motorizzate e altri invece per fanterie delle divisioni leggere. Come se le due cose fossero completamente a sé stanti, quando invece le linee di produzione sono uniche, perché vengono fatte nelle fabbriche, come dire che un Lee-Infield è diverso della fanteria e diverso rispetto a quello di un Light Infantry, di una divisione leggera. Non ha senso. È una complicazione che è stata immessa per giustificare il mettere più materiali, più cose all'interno del gioco e quindi aumentare la complessità, ma è una gravosità messa sul giocatore. Non ha un senso a livello meccanico. Comunque è un gusto, c'è a chi piace, c'è a chi no. A me no, se non ha una giustificazione reale del perché deve essere eseguita. Un'altra problematica fondamentale è quella degli HQ, degli Headquarters. Nella prima versione della Black Ice, che era proprio appena l'avevano pubblicata in uno Steam Workshop, gli sviluppatori avevano messo la possibilità di sponare, cioè di far nascere immediatamente a inizio gioco, un determinato numero di quartieri generali. Questi quartieri generali dovrebbero dare, teoricamente, dei bonus alle truppe in combattimento. Sono estremamente deboli, perché morivano immediatamente appena erano a contatto col nemico, se subivano degli attacchi o attaccavano. Ma davano un grande bonus. Infatti potevi modificare i tipi di Headquarters per avere più mobilità, più firepower, più difesa, eccetera. Insomma, volevano fare una specie di generale sul campo. Dopo, visto che non sono riusciti a sistemare il problema, lo hanno tolto di mezzo immediatamente e hanno messo al suo posto un ammontare di Headquarters Supplies che in base al numero di riserve presenti all'interno del proprio paese si ottenevano o non si avevano dei bonus. Quindi è un altro tab di produzione. Onestamente non capisco il perché vogliono mettere degli Headquarters. Siamo ad una cosa a livello strategico. Tu hai già un generale che è un Headquarter, a cui assegni delle divisioni, a cui assegni un fronte e lui deve gestire quello. Non ci sono gli Headquarters specifici. Questo è un refuso di quello che era Hearts of Iron 3. Perché in Hearts of Iron 3 questo concetto degli Headquarters era stato estremizzato. Tant'è che, per chi ci ha giocato, si può ricordare che all'interno il generale aveva il controllo, sì, dell'armata, ma poi sotto doveva avere HQ, doveva avere le divisioni, si potevano assegnare determinati tipi di divisioni a determinati tipi di HQ. Era molto più complesso. Tant'è che dopo l'hanno cacciato via il concetto, perché era troppo complesso, era inutile per il tipo di gioco che stiamo affrontando. Poi, un'altra cosa, una problematica più grossa, secondo me, sono gli eventi. Allora, questa è una problematica anche di Hearts of Iron 4, e che si è trascinato presso da Hearts of Iron 3. Gli eventi non sono significativi. Dunque, siamo in un gioco che è più o meno sandbox. Perché comunque puoi fare gli eventi della seconda guerra mondiale, seguendoli come devono essere, oppure puoi anche decidere che vuoi cambiare l'andamento della storia. Se tu vuoi cambiare l'andamento della storia e mi permetti di farlo, tu mi devi dare anche degli eventi che mi permettono di cambiare la storia come voglio io, o comunque con le varie opzioni che mi puoi dare a disposizione. Ora, se tu mi dai delle opzioni nelle quali è ovvio che io posso scegliere solamente una delle due perché è più conveniente, è ovvio che vado sempre a prendere quella. Se scelgo un'altra, vengo penalizzato. Questo perché nella Black Ice stanno tentando di mettere all'interno degli eventi che o sono solamente descrittivi, che ti dicono, ah sì, in data Y è successo questo, punto, oppure ti danno solamente, sì, guarda, devi scegliere fra, che ne so, Churchill e un altro, e poi guardi le statistiche e vedi subito che Churchill è la scelta migliore. Quindi, perché mi dai queste due opzioni? Non hanno, non ha nessun, non ha nessun senso, non ha nessun senso. Come anche la creazione di, oh, guarda, Hitler vuole creare delle divisioni SS perché lo ha voluto fermamente, vuoi delle truppe gratuite in più? Cazzo sì, grazie, sì, jolly good, subito, fammele generare, perché così ho più truppe, invece che dire semplicemente no. Il no ti dà qualcosa di più, tipo manpower, ti dà un drift delle politiche, ti fa cambiare, ti fa generare dei problemi che magari ti servono per creare qualcos'altro. No, non è significativo, gli eventi che hanno generato non sono significativi, è vero, è in sviluppo la mod, ma così non dà la voglia di giocarla, non dà la voglia di affrontare, di vedere come funziona il gioco in varie situazioni. E questo genera anche un altro problema, ovvero l'intelligenza artificiale, che in Art of Iron 4 non è geniale, ma funziona adesso con le ultime patch che hanno fatto, adesso è incapace di gestire i fronti. Come abbiamo potuto vedere durante l'assalto in Italia delle truppe inglesi, durante la mia ultima campagna, l'Italia giocava a rimpiattino, portava tutte le truppe prima in Italia, poi dopo quando attaccavo in Francia le spostava tutte in Francia, poi dopo le rispostava in Italia quando cominciava a pressare. Non funziona così. Non produceva neanche truppe sufficienti. A un certo punto abbiamo visto che la Francia ha smesso di produrre, anche se era libera al 90%, non produceva più nulla. Non aveva truppe, non le produceva nemmeno, non le schierava, gli Stati Uniti che non venivano a dare supporto da nessuna delle parti, preferendo prima andare a prendersi tutta la Cina per motivi a me sconosciuti, anche se avevano deciso durante un evento che la Germania doveva avere l'interesse principale rispetto a Giappone. Quindi, buh, mistero. L'intelligenza artificiale anche non ha sfondato in punti in cui non c'era nemmeno una divisione a proteggere il fronte. hanno deciso semplicemente di rimanere lì fermi per due anni, circa, a non far niente, no, un annetto, due anni è troppo, un annetto, fermi sul fronte, con l'Italia completamente sguarnita, senza truppe, così, per non si sa quale ragione. E poi soprattutto l'instabilità. Io non me lo sarei mai aspettato, ma quando siamo arrivati probabilmente a quella che io giudico, la capitolazione dell'Unione Sovietica, perché Leningrado è stata presa, Mosca è stata presa, Stalingrado è stata presa, il Caucaso è crollato, è probabile che l'evento della pace amara si è scaturito. Quindi significa che la Russia è capitolata, la Germania ha vinto sul fronte est, e quindi la Russia dovrebbe diventare o una specie di puppet, o comunque ritirarsi dai conflitti. Il problema è che questo ha fatto crashare completamente la mod, tant'è che io non riesco più a portare avanti la campagna. Ma non so il perché, io presumo semplicemente che sia perché l'intero evento della Bitter Peace non è stato sistemato, non è stato provato. E questo ha creato la terminazione della campagna. Ora, c'è modo di migliorare questa mod? Sì, eliminando i concetti core che ha questa modifica, o perlomeno modificandoli per renderli più usufruibili. Io ci ho provato, perché ho detto, vabbè, senti, ho fatto una campagna che mi è crashata, ho fatto una campagna con la Germania di prova, quindi vediamo un attimo se riesco a scrivergli qualcosa. Gli ho scritto quello che ho detto a voi. Adesso nel video, ho scritto sul forum a Panzeru, glielo ho scritto, tutto calmo e tranquillo, gli ho detto, guarda, secondo me, le cose che mi piacciono, le cose che non mi piacciono, come si potrebbe sistemare? Di risposta, ho ricevuto un suo commento abbastanza acido, nel quale diceva che, insomma, lui le cose non le cambia, perché la moda è così e si porta avanti in questa maniera, e che comunque la Black Ice non è fatta per giocatori che vogliono un'esperienza estremamente facile di gioco, e di estremamente cisi, o cose di questo genere. Adesso non mi ricordo bene l'ultimo termine che ha utilizzato. Detto questo, gli ho risposto dicendo che dovrebbe controllare prima con chi sta parlando, invece di dare certe risposte così alla leggera, e che comunque gli auguravo di fare un buon lavoro per la mod. La risposta è stata che stamattina mi controllo l'account di Steam per vedere se mi ha risposto, vedo che c'è una risposta, clicco sopra e il post è stato completamente cancellato. Quindi, congratulazioni per la serietà, e per quanto mi riguarda la Black Ice, anche se verrà migliorata in futuro, cosa che è sicura, per conto mio non ho intenzione minimamente di andarla ad esplorare nuovamente, e anzi, proprio non auspico nemmeno a qualcuno di provarla, perché da uno sviluppatore del genere, che alla prima critica, anche nel tentativo di essere costruttiva, ti viene ad attaccare direttamente, e ti insulta in maniera verata, beh, non c'è molto da dire. Quindi, detto questo, io ho finito con la mia esperienza con le mod, molto probabilmente me le terrò solo ed esclusivamente per fare qualche partita multiplayer, se mai succederà, e opterò principalmente per la Modern Days, che sembra essere un pochino più funzionale. E niente, direi che possiamo terminare qui. Adesso non so che cosa farò prossimamente, se sarà una partita di Arts of War, molto probabilmente tornerò sul Vanilla, e lo scoprirete comunque per settimana prossima. Io vi ringrazio, e ci vediamo per la prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao a tutti!